Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi tengo particolarmente a presentarvi, presento la prima volta sul mio canale, lo shampoo della Shea Moisture. Una linea assolutamente naturale, senza solfati, senza parabeni titolati, paraffina, oli colori sintetici e petrolati. E' una linea che volta a rinforzare i capelli, ma rinforzareli realmente. E' uno shampoo idratante che contiene burro di karité, menta piperita, aceto di mele e il black castor oil, che è l'olio di ricino. E' uno shampoo che non fa molta schiuma e lascia la cute molto idratata fino alla radice. E' uno shampoo stimolante, quanto stimola la micro circolazione, grazie alla menta piperita e all'olio di ricino. Mente delicato, che possiamo fare, lo shampoo anche due volte al giorno, assolutamente non dà alcun problema. Ha una profumazione che sembra quasi caramello, come altri shampoo che contengono delle sostanze nutritive, come in questo caso l'olio di ricino e la menta piperita. E' importante lasciarlo agire almeno 2-3 minuti e poi risciacquare. Perchè ragazzi faccio questo video. Molti miei clienti utilizzano lozioni e danno la necessità di fare lo shampoo tutti i giorni. E questo è il numero uno. Come tutti gli shampoo ovviamente non fanno miracoli, ma in particolare questo qui è formulato realmente per rinforzare e promuovere la crescita dei capelli. Il tempo di posa deve essere almeno di 2-3 minuti e poi risciacquate. E' assolutamente naturale, non è testato sugli animali, senza parabeni, senza piombo. Vi lascerò il link in descrizione nel caso in cui vogliate acquistarlo. La bottiglia questa qui è da 473 ml, quasi mezzo litro, dura una vita. E ne basta ragazzi veramente una cuccia. Vi faccio vedere. Basta veramente poco. Non fa molta schiuma. Lo consiglio a tutti, ovviamente. Per me, vi ripeto, è il top, è il numero uno su Amazon. Come sempre ragazzi vi ringrazio per aver visionato il mio video. Lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao.